Allora, l'ultima volta abbiamo introdotto i concetti di sistema di generatori vettorialmente indipendenti, adesso vogliamo arrivare al concetto di base e di dimensione, abbiamo già detto che una base in uno spazio vettoriale di dimensione finita è un sistema di generatori che siano praticamente indipendenti. Precisiamo meglio e andiamo a dimostrare il seguente teorema. Abbiamo V uno spazio vettoriale sul campo K, siamo una situazione del tutto generica, poi sia v1 v2 siano vh contenuti in mu, le seguenti affermazioni sono equivalenti. prima v1 vh è una parte libera massimale 2 v1 vh è un sistema di generatori 2 v1 v2 siano 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 Sia parte libera Sia sistema Ok Allora Vi ricordo massimale significa Che se aggiungiamo un altro vettore Non è più parte libera Quindi non è contenuto propriamente In un'altra parte libera Minimale significa che se togliamo uno Qualunque dei v con i Non è più un sistema di generatori Che la 3 è ovvia Perché deve essere sia parte libera Che si sta dicendo Andiamo a dimostrare Questa proposizione Allora Per dimostrare l'equivalenza Possiamo dimostrare Tutte le equivalenze a 2 a 2 Però in questo caso dobbiamo Dimostrare a meno 4 Le situazioni Oppure possiamo seguire Un modello circolare Per esempio Dimostrare che la 1 implica la 2 Che la 2 implica la 3 Che la 3 implica la 1 Io adesso non ricordo L'ordine in cui l'ho fatto L'anno scorso Ma non è importante Perché diciamo Siccome queste affermazioni Sono equivalenti C'è sicuramente il modo di partire da 1 Allora cominciamo a vedere Per esempio Che la 1 implica la 3 Poi andiamo a vedere Che la 3 implica la 2 E che la 2 implica la 2 Allora andiamo a Allora prima di tutto Cerchiamo di capire Cosa dobbiamo dimostrare Se la 1 implica la 3 La 1 implica la 3 Vuol dire Che una parte libera massimale Deve essere anche Un sistema di generatore Per dimostrare 1 implica 3 Dobbiamo Verificare Che Una parte libera massimale Una parte libera massimale E anche Un sistema Di generatore La cosa è ovvia Dimostriamolo per assurdo Se Per assurdo Così non fosse Esisterebbe Esisterebbe Che Non può essere generato Da V appartenente a V Tale Che Che V è Diverso Da Somma Per J Che va da 1 Adatta Di lambda J V V J Per ogni Per ogni Diciamo Per ogni scelta Di lambda 1 Lambda a Diciamo Ok Questo qua Adesso L'ho scritto così Perché Non abbiamo Definito lo Spen Però Diciamo Lo scrivo qua Si dice Si dice Spen Di V1 U H Uguale Per definizione Insieme Le somme Per J Che va da 1 Ad H Di lambda J U J Tale Che Lambda 1 Lambda H Siamo Doppi Appartenenti A Cioè Tutte le combinazioni Di miliari possibili Di un certo numero Di lettori fissati Si chiama Spen Spen Significa Spazio Generato Da F E' banale Esercizio Questo qua E' un sottospazio Vettoriale Questo è un Sottospazio Vettoriale Di V Perché Se faccio La somma Di due Vettori Dello Spen O coltivo Di un vettore Dello Spen Dello Spen Per un coefficiente Non esco Poglio Da U Fatti Quindi Invece Di scrivere Così Qua Potrei scrivere V Non appartiene Allo Spen Di V1 Qua Allora Torno Un attimo Indietro Ripeto Noi abbiamo Per ipotesi Una parte Libera Massimale Dobbiamo dimostrare Che questa è Parte libera Già lo sappiamo E che è un sistema Di generatori Cioè la 3 Supponiamo Per assurdo Che non lo sia Allora ci deve stare In V Un qualche vettore Che non possiamo Generare Con i vettori V1 Qua E qua Abbiamo scritto Che V Non può essere Generato Non può essere Generato Non appartiene Dallo Spen Di V1 VH È la stessa Compria Ok Allora Dico Che 1 VH V È ancora Parte Libera Per forza Allora Questo vettore Che non posso Generare Se io lo aggiungo Ai vettori di prima Che era una parte Libera È ancora una parte Libera Perché Sia Somma Per J Che va da 1 Ad H Di lambda J VJ Più V V Uguale al vettore Nullo Dove Lambda 1 Lambda 2 Lambda H E Mu Sono Coefficienti di K Cioè che cosa ho fatto Ho scritto Una combinazione lineare Di questi vettori E l'ho uguagliato Al vettore nudo Come si fa a scrivere Una combinazione lineare Di vettore Beh Qua lo sappiamo già fare Poi ci devo aggiungere V Per una Per uno scalato Allora Se io voglio dimostrare Che questa è una parte Libera Devo dimostrare Che i coefficienti Sono tutti nulli Allora Mu È diverso Da zero Altrimenti Supponiamo Che i coefficienti Non siano tutti nulli Allora In tal caso Mu Deve essere diverso Da zero Altrimenti V1 VH Non sarebbe Ratterita Ma allora V è uguale A meno Uno Su mu Per la somma Per G Che va da uno Ad H Di lambda G Pu G E questo è un primo assurdo Che è derivato da questo Adesso lo ripeto Prendiamo questa combinazione lineare È uguale al vettore nullo Per vedere che è una parte libera Dobbiamo dimostrare Che i coefficienti Sono tutti nulli Proviamo a prenderli Non tutti nulli Allora dico Mu Non lo posso prendere zero Perché se prendo Mu zero Allora non tutti nulli Devono essere questi Ma questo non è possibile Perché questa è la parte libera Allora Mu deve essere Diverso da zero Ma anche qua Richiamo l'assurdo Perché in questo caso Porto mu Vu dall'altra parte Divido per mu E mi richiamo V Cosa che sapevo Che non si poteva Fare Perché V Non si può Che cosa ho fatto Questi qua Lo posso portare dentro No Ho scritto V come una combinazione linea Di V1 VH Cosa che non si poteva Fare Ed è un assurdo L'assurdo è derivato Dall'aver Supposto che i coefficienti Non fossero ultimi Quindi V1 VH È parte libera E qui Ho finito la dimostrazione Perché La mia parte libera Era massimale Allora io ho dimostrato Quell'ipotesi là Che V non potesse essere Generato da V1 VH L'ho fatta per assurdo E qua sono arrivato All'assurdo Perché Che cosa Vuol dire Se questa è una parte libera Questa vuol dire Strettamente V1 VH Che non era una parte libera Massimale Parte libera Svirgola E questa non è Parte libera Massimale Massimale E qui Lo tengo Questo Finisce La dimostrazione Che 1 Implica 3 Ok 1 Implica 3 Inizia qua Tutta questa lavagna qua E 1 Implica 3 E finisce qua E' chiaro il ragionamento Lo ripeto Se non Diciamo Vi è chiarissimo Il ragionamento Vi mettete A casa Con calma Ve lo ripetete Fino a che non Mi è entrato in testa Perché Di questi ragionamenti Ne faremo Non 1 Non 10 Li faremo Continuamente Quindi Si tratta Diciamo Delle cose Basilari Per cui Diciamo Se ci volete Capire qualcosa E' meglio Capire Allora Io cosa dico So che Questa è una parte Libera Massimale Voglio dimostrare Che è un sistema Di generatori Provo a vedere Ma magari Non è vero Magari Non è un sistema Di generatori Allora Ci deve stare Qualcosa Che non posso Generare Allora Questo qualcosa Che non posso Generare Lo aggiungo Lo posso aggiungere Alla mia parte Libera E ottengo Ancora una parte Libera Ma questo Sarà assurdo Perché La mia parte Libera Di prima Era Massi Massimali Questo è il discorso Che voglio fare Allora Se c'è qualcosa Che non Però devo ancora Dimostrare Che se c'è Qualche vettore Che non posso Generare Questo Aggiunto A quelli di prima Mi dà ancora Una parte Libera Allora Vado a fare La combinazione Lineare Suppongo Che i coefficienti Non siano Tutti nulli Devo dire Che per forza Questo coefficiente È diverso Da zero Altrimenti Non sono tutti Nulli Quelli di prima Ma questo Non è possibile Perché quella Di prima Era una parte Libera E allora Mi posso Ricavare V E allora Lo potevo Generare Ma questo È assurdo Perché V Non lo potevo Generare Quindi Un vettore Che non posso Generare Non ci sa E quindi Quello è Un sistema Di genera Assurdo Nel momento In cui Ho dimostrato Che Il vettore Da generare Cioè Che non è possibile Generare Non c'è Supposto che ci sia E sono arrivato A un assurdo Allora Che vuol dire Che v1vh Lo scrivo qua Quindi V1vh V2 Vh È Un sistema Di Generatori E questo Finisce La dimostrazione Che v1 Implica 3 Era già Implicito In quello Che avevo scritto Qua Però Scriviamo Esplicitamente Che è meno È chiaro Questo ragionamento Perfetto Adesso Andiamo a cancellare Solo la dimostrazione Denunciato Lo lasciamo stare E andiamo a vedere Che 3 Implica Per esempio 2 Cancelliamo La dimostrazione Di 1 Implica 3 E andiamo a fare Quella E 3 Implica 2 In questo caso Secondo voi Cosa sappiamo? Sappiamo Che V1 Vh È Una parte Libera E anche Un sistema Di generatori Perché 3 Ce l'abbiamo Per i box Dobbiamo Dimostrare Che come Sistema Di generatori È minimale Ok Allora Stiamo qui Sappiamo Che V1 V2 Vh È Parte libera E contemporaneamente Sistema Di generatori Mostriamo Che V1 Vh È Un sistema Di generatori Minimale Ok Se non fosse Minimale Che vuol dire Che ce ne posso Togliere uno E rimane In sistema Di generatori Ma quello Che tolgo Lo devo poter Generare Con gli altri Allora Posso scrivere Se Per assurdo Così Non fosse Esisterebbe Un J0 Un certo Indice Tale Che Vj0 Sarebbe Uguale A Meno 1 Su Lambda Con l'indice J0 Per la Somma Per J Che va Da 1 Ad H Saltando J0 Di Lambda J Vj Per quale motivo Scusate Ho sbagliato Scusate Lambda J Lambda J0 Non ci stava Io so Soltanto Che questo Lo posso Generare Con Gli altri Ok Se non è Un sistema Generatorio Minimale Ce ne deve Stare uno Che posso Generare Usando gli altri Allora Questo qua Si potrà Scrivere Per Opportuni Per Opportuni Lambda Lambda 1 Lambda J Lambda Lambda H Appartenenti A K J Diverso Da J Cioè Questo qua Vj0 Lo posso Portare Così Scrivere Come Allora Che cosa Posso Scrivere Pertanto Somma Per J che va Da 1 Ad H J Diverso Da J0 Di Lambda J Vj Meno Vj0 Fa Il vettore Nullo Allora Lo porto A destra Allora Vedete Questa Non è Altra Che Una Combinazione Lineare De V1 V2 Vh Qua Ci mancava Vj0 Qua C'è Dico Che E questa Mi dimostra Che Tutti I vettori V1 Vh Sono Linearmente Dipendenti Per Quale motivo? Questa è una combinazione lineare Di V1 Vh Anche se Questi fossero Tutti nulli Questi non lo so Potrebbero anche Essere tutti nulli Ma qua Ci sta Meno 1 Meno 1 Cioè L'opposto Di 1 Non può Essere nullo Ok 1 e il suo Opposto Magari possono coincidere In Gf2 Concidono 1 e meno 1 Sono uguali In tutti gli altri Campi sono diversi Però Cioè Scusate Non in tutti In molti altri Campi sono diversi Però Che cosa succede? Che Sia 1 Che l'opposto Di 1 Non possono essere nulli Quindi qua C'è una combinazione lineare Iguale Vettore nullo Qua c'è il coefficiente Meno 1 Non è nullo E quindi I vettori Sono dipendenti Ma se sono dipendenti Non è una parte libera Ma io per ipotesi Sapevo che quella Anche una parte libera Quindi questo è Un Assurdo Da dove è derivato L'assurdo Dall'aver Ipotizzato Che il sistema Di generatore Non fosse minimale Quindi V1 V2 VH È un sistema Di generatori Minimale Adesso Per finire Dobbiamo dimostrare L'ultima implicazione Qua cancello Perché la 3 Implica 2 L'abbiamo mostrata Per adesso Continuo qua Quando finisco Ricomincio sulla lavagna Cancello Qua di sopra Ricomincio sulla lavagna Quindi dobbiamo dimostrare Che 2 Implica 1 Se dimostriamo questa Abbiamo finito il teorema Perché abbiamo dimostrato Che 1 implica 3 3 implica 2 2 implica 1 E quindi Si implicano tutte quante L'una con l'altra Perché Se voglio dimostrare Che 1 implica 2 Ovvero Siccome 1 implica 3 3 implica 2 Andiamo a posto Ok In questo caso Cosa so? So Che 1 VH È un sistema Di Generatori È un sistema Di generatori Minimale In realtà In realtà È unico che bleffiamo In realtà Per vedere questo Dimostriamo prima Che da 2 segue 3 E poi da 3 Dimostriamo che segue 1 Quindi in realtà Ne facciamo 4 Allora andiamo a vedere Prima Mostriamo Che 1 V2 QH È parte libera Prima dimostriamo che è parte libera E la parte libera Valrà la 3 Perché Sarà contemporaneamente Una parte libera Un sistema di generatori E facciamo come al solito Il ragionamento per l'assunto Per il ragionamento Andiamo a vedere Grazie Dè se per assurdo v1, v2, vh fossero linearmente dipendenti cioè non fossero una parte libera allora esisterebbero lambda 1, lambda 2, lambda h non tutti nulli tali che somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj faccia il vettore nullo vi ricordo che questa somma lo riscrivo per buona memoria se la devo scrivere per esteso non è altro che lambda 1, v1 più lambda 2, v2 più lambda h, vh scrivere così o scrivere così è la stessa cosa allora siccome i coefficienti non sono tutti nulli sia j0 tale che lambda j0 è diverso da 0 allora vj0 lo posso scrivere portato dall'altra parte dividendo per lambda j0 come meno 1 su lambda j0 stavolta per la somma per la somma del j che va da 1 ad h j diverso da j0 di lambda j vj cioè sarebbe di prendo lambda j0 questo è uguale al vettore nulli lo porto di là e divido per lambda j0 che vuol dire? vorrebbe dire che questo vj0 si può generare tramite gli altri quindi v1 vh non è sistema di generatori minimale e questo è assurdo pertanto v1 vh deve essere una parte libera non sarebbe non sarebbe pertanto mostriamo adesso mostriamo adesso piedi 1 vh 1 vh è un a è una parte libera massimale ricordiamo che v1 vh 2 vh è per ipotesi un sistema di generatori e parte libera sistema di generatori perché per ipotesi è un sistema dovremmo dimostrare 2 implica 1 sapevo che è la 2 quindi sapevo che era un sistema di generatori addirittura minimale però dal ragionamento che ho già fatto ho visto che è anche la parte libera adesso come parte libera devo dimostrare che è massimale sia v appartenente a v sia per assurdo v appartenente a v tale che 1 vh v sia parte libera che significa negare che una parte libera sia massimale e ci posso aggiungere un vettore e questo ancora non è è ancora parte libera ma io so poiché v1 vh è un sistema di generatori esistono lambda 1 lambda h tale che v è uguale a somma per j che va da 1 ad h di lambda j per j per tanto somma che va da 1 ad h lambda j vj meno v fa il vettore nullo e questo è assurdo per quale motivo questa è una parte libera questa è una combinazione lineare tipo somma lambda j vj più mu v il coefficiente mu è meno 1 come prima non è nullo e allora se la combinazione lineare ha i coefficienti non tutti nulli vuol dire che i vettori sono linearmente indipendenti ma se sono linearmente indipendenti non possono essere particolari pertanto da dove è nato l'assurdo dall'aver supposto che la parte libera non fosse massimale pertanto v1 vh è parte libera massimale ok qua finisce e qua finisce il teorema allora ricordi abbiamo dimostrato prima 1 implica 3 poi abbiamo dimostrato 3 implica 2 poi lo vogliamo dimostrare 2 implica 1 però in realtà siamo come tornati dietro abbiamo dimostrato prima 2 implica 3 e poi 3 implica 1 e quindi alla fine abbiamo dimostrato 2 naturalmente vi potete sbizzarrire a fare anche le altre dimostrazioni per esempio posso dimostrare che vabbè 1 implica 2 però alla fine dimostrano sempre che 1 prima devo passare a passare 3 di dimostrare che 1 implica 3 che 3 implica 2 potete dimostrare ok allora facciamo un attimo la somma di quello che abbiamo dimostrato fino a ora dei concetti che abbiamo introdotto allora noi abbiamo uno spazio vettoriale abbiamo visto che ci sono quando io ho dei vettori il gioco è sempre quello di fare le combinazioni lineari quando faccio le combinazioni quindi il concetto basilare che dobbiamo avere presente è quello di combinazioni lineari se non avete capito che cos'è una combinazione lineare pregasi andare a rivedere le lezioni di prima ok faremo molti esercizi però la cosa importante è capire questo l'abbiamo capito già in R2 in R3 abbiamo capito cosa sono le combinazioni lineari queste qua cosa mi danno siccome gli scalari io li prendo come vi pare liberi al variare di tutti gli scalari possibili le combinazioni lineari mi danno un sottospazio fissati un certo numero di vettori in V1 V2 V3 per esempio tre vettori questi qua mi daranno un sottospazio di V allora questo spazio lo chiamiamo spazio generato da spento di V1 V2 V2 per esempio o di V1 V2 VH in generale se i vettori di partenza sono A cosa ci siamo accorti due cose in particolare può succedere che quando faccio le combinazioni lineari tutti i vettori siano utili cioè quando faccio le combinazioni lineari non posso togliere un vettore a volte abbiamo visto che non tutti diciamo posso ottenere un vettore V per esempio in R2 se ho tre vettori sicuramente posso ottenere il vettore V come una combinazione linea di V1 V2 V3 ma anche con un'altra combinazione linea di V2 V3 oppure posso per esempio eliminare V3 e ottenere V semplicemente come combinazioni lineari di V1 e V2 l'abbiamo visto questo già con gli esercizi quando questo non succede quando tutti V1 V2 VH sono utili nelle combinazioni lineari diciamo che quella è una parte libera i vettori sono indipendenti questo l'abbiamo chiarito l'altra volta ok e questo che cosa vuol dire vuol dire che questi V1 V2 VH sono all'interno di quell'insieme tutti necessari per fare lo span lo span sta in V che è uno spazio più grande quindi in qualche modo per fare tutto V ci vogliono preciseremo dopo più vettori di V1 V2 VH quindi vedremo la dimensione di V è più grande maggiore uguale a viceversa un'altra cosa che può capitare è che quando vado a fare le combinazioni lineari cioè lo span di V1 V2 VH ottengo tutto V in questo caso non sto dicendo che i vettori sono necessari per fare lo span sono sufficienti per fare lo span che coincide con tutto V quindi sono sufficienti per fare tutto V quindi per fare tutto V ce ne vogliono o H o D- quindi in qualche modo questo ci prefigura il fatto che la dimensione di V sarà minore o uguale di H quindi quando abbiamo una parte libera e non siamo arrivati a V dobbiamo aggiungere altri vettori per cercare nelle combinazioni lineari di arrivare a tutto V se invece abbiamo un sistema di generatori e facciamo tutto V riusciamo a fare tutto V quello che possiamo provare a fare è vedere se riesco a fare la stessa cosa togliendo qualche V qualche generatoro ok? quando io aggiungo cosa dice il teorema che abbiamo dimostrato stamattina? che quando aggiungo 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 e la parte libera diventa massimale automaticamente genero tutto V perché se non generavo tutto V potevo ancora aggiungere quindi parte libera massimale automaticamente è sistema di generatori sistema di generatori generavo tutto V erano dipendenti tolgo 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 sistema di generatori minimale automaticamente è parte libera cioè automaticamente sono indipendenti perché se non dipendenti potevo togliere ancora è chiaro questo concetto non deve essere chiaro deve essere di più deve essere stampato a lettere di fuoco nella vostra testa e quindi da questo da queste due osservazioni fondamentali scaturisce il teorema che poi non è altro che una piccola complicazione di quello che ho detto cioè le tre proprietà sono completamente equivalenti o è parte libera massimale o è sistema di generatori minimale o è contemporaneamente parte libera dal sistema di generatori è la stessa cosa cioè se è l'uno è anche le altre due quindi una un sistema di vettori V1VH che sia una di queste tre cose automaticamente le altre due si chiamerà base questo adesso lo scrivo prima della pausa però voglio dire un'altra cosa prima della pausa se voi avete un sistema di generatori se vi ricordate l'altra volta abbiamo definito che cos'è uno spazio vettoriale di dimensione finita allora supponete avere un sistema di generatori di 70 generatori che generano tutto il mondo in questo caso io sono sicuro che lo spazio è dimensione finita perché tolgo 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 a un certo punto quello che può succedere al limite arriva a zero cioè il spazio vettoriale è solo il vettore nullo e arriva a zero ma poi meno di quello non posso fare magari arrivo invece che a zero arriverò a 15 e vedremo che la dimensione sarà a 15 chiaro? quindi in quel caso sono sicuro che lo spazio vettoriale è dimensione finita supponiamo invece che abbia un altro spazio vettoriale in cui ho parte libera vi ricordate lo spazio vettoriale dei polinomi? allora c'ho 1 ho x ho x quadro quando vado a fare i punti vedo che sono sempre parte libera aggiungo x cubo e sono ancora parte libera aggiungo x alla quarta e sono ancora parte libera aggiungo x alla quinta e sono ancora parte libera e così via non finisco mai in questo caso se finissi allora rientreremo in questo terreno ma siccome non finisco mai vuol dire semplicemente che quello lì cioè tutti i polinomi non sono uno spazio vettoriale di dimensione infinita chiaro? se invece mi limito ai polinomi di grado minore o uguale di 7 allora devo partire da 1 aggiungo x aggiungo x quadro x cubo x alla quarta x alla quinta x alla 6 x alla 7 finisco perché a quel punto faccio vedere che riesco a degenerare tutti i polinomi di grado fino a 7 e quindi la dimensione dello spazio vettoriale dei polinomi fino a 7 su r per esempio è 8 infatti un polinomi di grado fino a 7 si scrive somma di c con i x alla i dove c con i sono 8 e i vettori sono 1 x x quadro x cubo x alla quarta x alla quinta x alla 6 x alla 7 chiaro? sono funzioni però in quel caso comunque fanno parte di uno spazio vettoriale quindi lo possiamo riguardare come vettori è chiaro fino a qui? ok adesso diamo la definizione fondamentale e poi facciamo una piccola vediamo un po' se è orario di fare una piccola pausa no c'è ancora allora sia v uno spazio vettoriale su k e sia v1 v2 v1 contenuto in v tale che tale che valga valga una delle condizioni seguenti seguenti oppure se non le volete ricopiare io me le trovo già scritte sarebbe la 1 la 1 e quindi tutte e 3 per il teorema precedente a me basta verificarne una cioè una v1 vh tale che sono distribuita di queste condizioni perché la domani vi ho detto per il teorema precedente in tal caso v1 v2 vh si dice base di v quindi che cos'è una base di uno spazio vettoriale è una parte libera massima oppure è un sistema generatore minimale oppure è una parte libera di un sistema generatore quali spazi vettoriali hanno sicuramente una base quella in dimensione finita perché io prendo un sistema di generatore tolgo e a un certo punto arrivo a quello minimo nel caso di spazi vettoriali in dimensione infinita esiste l'analogo di una base però potremmo dire un sistema se e quando lo faremo lo chiameremo in qualche modo però non è non viene chiamato direttamente base per esempio negli spazi con prodotto scalare vettoriali lo chiamato sistema ortonormale completo che sarà l'analogo di una base però se troviamo una di queste cose sicuramente lo spazio è di dimensione finita perché abbiamo trovato un sistema di generatori finito e questa si chiama base adesso cosa ci manca ci manca ancora qualcosa io vi ho già preannunciato ho già parlato due tre quattro volte del concetto di dimensione il problema è che questo concetto di dimensione potrebbe essere in qualche modo un numero mal definito secondo voi come lo dovremmo chiamare chi dovremmo chiamare la dimensione dello spazio vettoriale chi sarà la dimensione dello spazio vettoriale vediamo un po' se ci avete capito qualcosa cosa sarà la dimensione dello spazio vettoriale la dimensione è un numero una base è un insieme di vettori quindi chi sarà la dimensione h e chi è h il numero degli elementi di una base rimane un problema che ci dice che se vado a prendere due basi diverse può essere che abbia due basi diverse e voi in r3 potremmo vedere che ci sono infinite basi in r2 ce ne sono altrettanto infinite anche in r ce ne sono infinite soltanto che noi non sappiamo a priori se le basi di r3 abbiano tutte lo stesso numero h cioè la stessa lunghezza lo stesso numero di elementi chiaro? questo non è scontato per quale motivo? è scontato che quando io parto per esempio da un sistema di generatori per esempio parto da 70 generatori tolgo 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 arrivo a un certo punto a 15 e poi non posso più togliere e quelli che rimangono sono lineamenti indipendenti questo sì cioè fino a 16 le cose potevo ancora togliere a 15 magari non posso questo sì però magari se io parto da un set di generatori completamente diversi che erano 25 quelli di prima non ce ne sta manco tolgo 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 chi mi dice che mi fermo a 15 magari uno dice potrei essere con un altro set di generatori potrei essere più fortunato e arrivare a 14 o più sfortunato e rimanere a 16 quando arrivo a 16 sono già parte libera o quando arrivo a 20 sono già parte libera allora ci vuole un teorema che dica che se prendo due basi che a priori sono completamente diverse allora le due basi hanno la stessa dimensione hanno la stessa lunghezza e quindi quella lunghezza possiamo chiamarla dimensione dello spazio vettoriale quindi il concetto sarà quando avrete uno spazio vettoriale avete due basi se una è lunga 7 l'altra non può essere lunga 9 sarà pure lunga 7 non può essere lunga 5 sarà pure lunga 7 chiaro questo? allora per dimostrare questa cosa non la faccio la dimostrazione la faccio dopo la pausa però una cosa faccio a tempo a farla prima della pausa un lemma un lemma che è banale la dimostrazione è una riga quindi comunque non arriviamo neanche a mezzogiorno però vale la pena allora sia l'emma sia v uno spazio vettoriale sul campo k e sia v1 v2 vh base base di v allora sia vj1 vj2 vjs contenuto in v1 v2 vh con s minore di h cioè andiamo a prendere un sottinsieme di questo j1 minore j2 minore js maggiore o uguale di v cioè abbiamo toccato qualche lemma allora vj1 vj2 vjs non è base non è base di v inoltre se sia v appartenente a v generico allora v1 v2 vh v non è base v per quale motivo adesso lo vediamo però vediamo che cosa abbiamo detto abbiamo detto che una base non può contenere un'altra base più piccola e non può essere contenuta in una base più grande allora la dimostrazione è ovvia perché che significa che la dico a parole questa è una base cioè un sistema di generatori mini ci ho tolto qualcosa questo può essere un sistema di generatori questa è la minimale questo non è un sistema di generatori allora se non è un sistema di generatori non è una base questa è una base fino a vh quindi era una parte libera ma sì ho aggiunto v che non sta diciamo v non appartenente a v1 vh ovviamente devo aggiungere questo che è diverso da quello di prima cioè ho aggiunto un altro non è importante perché pure che ci aggiungessi scusate questo non serve perché pure se aggiungessi v2 un'altra volta sarebbero sempre minimamente di me questa è un altro vettore qualunque sto sia questa è la parte libera ma sì perché è una base ci aggiungo v non può essere più parte libera allora se non è una parte libera non è una base quindi il concetto fondamentale che ci porterà a dimostrare che tutte le basi hanno la stessa lunghezza è che non esistono due basi contenute una dentro l'altra questo non può essere questo lo sappiamo però questo non dimostra il teorema a cui vogliamo arrivare perché se io potrei avere 15 generatori una base di 15 elementi e un'altra base di 16 elementi diciamo i due insiemi sono disgiunti non sono contenuti l'uno nell'altro allora devo far vedere che uno dei due non va bene o i 15 non generano tutto fu o i 16 non sono parte libera non può essere che siano tutte e due basi ma questo per vederlo è un po' più di difficile e lo vediamo dopo la pausa grazie a tutti grazie a tutti